Benvenuti nel mio canale. Non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche. Vi parliamo della nostra famosissima serie tv chiamata Udutsuz Sevda. Ali Libraim e Deniz Kanaktas, che perse il padre da bambino a causa di una faida e fu esiliato a Istanbul. Dopo 20 anni, ritorna nella sua città natale nella regione del Mar Nero come un giovane bello e forte. Qui sposerà la ragazza che ama, Yasemin e Biran Damla Ilmaz, e stabilirà la sua nuova vita. Ma quanto accaduto non lo consente. La vita di Ali Libraim, che è in viaggio di vendetta, cambierà completamente con l'apparizione di Zeynep e Mirai Daner, Idaletos. L'unica cosa che mantiene in vita Ali Libraim dopo aver perso Yasemin è il fuoco della vendetta. L'unico obiettivo di Ali Libraim è Letos, ma Letos scaricherà il dolore della morte di Tark su tutti, colpevoli o innocenti. Zeynep, le cui buone intenzioni causano ancora più morti, cerca di salvarsi dalla crudeltà della sua famiglia. Affrontando Zeynep, Ali Libraim, con il suo aiuto, uccide Letos e ha intenzione di mettere la gendarmeria l'una contro l'altra e trasformare la guerra contro di lui in una guerra a tre. Anche se i Letos sembrano essersi lasciati alle spalle i problemi, Alil Ibrahim, il primo tenente Uzz. Alil è sul collo di Ibrahim. Zeynep, che crede di potersi sbarazzare di Levent grazie al piano di Alil Ibrahim. Non è ancora consapevole di aver scavato per sé una fossa più profonda. Alil Ibrahim apprende dal primo tenente Uzz che ha detto a Tark Leto la loro posizione. Quando suo padre la costringe ancora a sposarsi nonostante tutta la crudeltà di Levent nei suoi confronti, Zeynep chiede aiuto a suo fratello. Quando Fikret non può fare nulla, Zeynep chiede ad Alil Ibrahim di rapirla il giorno del suo matrimonio. In cambio, Alil porterà Cevat, l'assassino di suo padre, per vendicare Ibrahim. Riuscirà Alil Ibrahim a vendicarsi e a salvare Zeynep? Non dimenticare di mettere mi piace al mio video e di attivare le notifiche. Arrivederci. Grazie a tutti.